Ciao ragazzi e benvenuti sul nostro nuovo canale Ah si, ho aperto un nuovo canale con la nuovissima home con l'orribile che ho scattato qualche giorno fa Presentati pure Carina Ciao a tutti, è molto onore fare la vostra conoscenza, io sono Carina Non è che si sta avvantando, si chiama proprio Carina Già, i miei genitori mi hanno dato questo nome Comunque, ora diciamoli come si chiama il nostro nuovo canale Ah si, il nuovo canale si chiama InfoCanal Perché? Perché darmi informazioni sul nostro nuovo canale, cioè sui suoi canali Sì, come sapete io ho tanti canali, ho Barbie Show che parla della famiglia delle Barbie New Doll City che parla di Argentina, Danny e tutti i personaggi su di quel canale Già, una volta si... è meglio non spoilerare troppo, se no non abbiamo due episodi Ah, è giusto Poi avevo anche storie di una famiglia, però quello lì come... ho anche un altro canale che si chiama Gattax Però è chiuso Perché insomma ho finito E anche storie di una famiglia però... insomma è molto difficile Dovevo sempre cambiare, andare in posti dove non c'era nessuno Quei posti erano faretti Non so, poi se qualcuno nei commenti insiste, insiste che vuole vedere ancora quegli episodi Poi io lo faccio volentieri, ma... intanto quella gente... la gente non è che li guardava tanto, quindi... eh sì, dai, non è tagliare E niente, l'ho chiuso e poi... ne avevo altri ma poi l'ho chiuso, insomma Ehm... niente, questo era il video presentazione Già anche sui altri canali vi abbiamo fatto che presenta il nostro nuovo canale Come si chiama e di cosa parlerà Certo, era solo un assaggio Bene, allora, ci vediamo nel prossimo video che sarà il primo episodio Questo vale come episodio zero perché è solo spiegazione Beh, ciao da me e anche da Karina Ciao!